Salve a tutti, il mio viaggio comincia ad un incrocio, l'incrocio tra design e scienza, con una valigia piena di stupore, lo stupore che di solito provo di fronte alla bellezza generosa e gratuita del pianeta. Durante questo viaggio ho sperimentato tre cose. Ho sperimentato il potere del design al fine di generare comprensione attraverso chiarezza, emozioni ed interesse. Ho sperimentato che comunicare la scienza senza un dialogo continuo e costante con gli scienziati può generare falsi miti e messaggi forvianti. Più di tutto ho sperimentato che non possiamo ignorare il ritmo delle risorse naturali da cui la nostra vita dipende. Noi utilizziamo queste risorse per produrre, per costruire, per muoverci, per nutrirci ed inevitabilmente generiamo un impatto sulla natura attraverso rifiuti ed emissioni. Ora la natura deve prendere questi rifiuti ed emissioni e ritrasformarli in risorse. C'è un piccolo problema però perché noi siamo molto più veloci a trasformare le risorse in rifiuti rispetto al ritmo con cui la natura riesce a trasformare i rifiuti in risorse. Cioè andiamo molto più veloci. È come svuotare un secchio molto più velocemente di quanto possa essere riempito. Per spiegarla in termini finanziari l'umanità ha un dono preziosissimo, un capitale naturale fisso. Questo capitale naturale fisso produce degli interessi naturali ogni anno. Ora dagli anni settanta circa noi abbiamo cominciato ad utilizzare di più degli interessi naturali. Quindi abbiamo cominciato ad erodere il capitale naturale fisso che non si rigenera. E quindi mettiamo a rischio non soltanto il capitale naturale fisso ma anche gli interessi naturali che questo capitale può generare. Chiediamo al pianeta più di quanto sia possibile. Siamo tecnicamente in una condizione che si chiama di overshoot. Ora questa condizione di overshoot ha le sue radici in contraddizioni profonde che possiamo e dobbiamo risolvere. Quando ho cominciato il mio viaggio credevo che tutto quello che ci fosse da sapere su una goccia d'acqua fosse visibile e tangibile, mi scorresse tra le mani. Credevo che la cosa importante fossero quei 50.000 litri all'anno per persona del consumo domestico che ciascuno di noi usa per bere, per fare la doccia, per lavarsi i denti. In realtà questo rappresenta soltanto la punta di un iceberg perché ci sono due storie importantissime, molto più importanti. C'è l'acqua che viene utilizzata per produrre i prodotti industriali che consumiamo ogni giorno e quel valore ammonta 61.000 litri per persona ogni anno. Ma poi c'è una storia ancora più importante che è l'acqua che viene utilizzata per produrre il cibo che consumiamo e quel valore ammonta a 1.274.000 litri per persona ogni anno. Quindi il 92% dell'acqua che utilizziamo si nasconde nel cibo che mangiamo. Ora il cibo comincia o comunque è il risultato di un viaggio lunghissimo, un viaggio lunghissimo che mobilita delle risorse preziosissime, non solo acqua. E il problema è che in economie come la nostra noi buttiamo via tantissimo cibo. La FAO ci dice che di tutto il cibo che viene prodotto su scala mondiale un terzo non raggiunge il nostro stomaco. quel terzo è pari a un miliardo e 300 milioni di tonnellate di cibo ogni anno. Eliminare questo spreco vorrebbe dire fare fronte al 60% del fabbisogno di cibo cui dovremo far fronte nei prossimi 70 anni quando le Nazioni Unite ci dicono che saremo circa 3 miliardi in più. Ma dov'è che sprechiamo? Il cibo è il risultato di un viaggio che parte probabilmente in campi coltivati lontani migliaia di chilometri da noi e continua attraverso tutte le fasi della filiera produttiva. Lo spreco avviene lungo tutte queste fasi. Durante la fase di produzione agricola, durante la fase di lavorazione industriale come il packaging, durante la fase di distribuzione, durante la fase di ristorazione e a casa. Perché avviene lo spreco? Ci sono le ragioni più assurde. Per ragioni di natura estetica ad esempio, perché i prodotti non sono belli da vedere, perché sono stati colpiti da grandine oppure perché non sono sufficientemente dritti da pelare. Per ragioni di mercato, se al contadino viene liquidato un prezzo che è inferiore al costo della raccolta, al contadino conviene lasciare marcire la frutta nei campi. E noi nel 2009 in Italia, per questo motivo, come ci dicono Segre e Falasconi, abbiamo buttato via 17 milioni e 700 mila tonnellate di frutta e verdura. Ci sono ragioni commerciali, problemi di pezzatura, i prodotti sono troppo piccoli e troppo grandi. Ci sono errori nel packaging. Ci sono problemi di conservazione, problemi di gestione nelle scorte, perché sugli scaffali dei nostri supermercati abbiamo fino a quattro volte di più rispetto a quello di cui abbiamo bisogno. Ci sono problemi nella lettura delle etichette. Poi ci sono le nostre abitudini. Compriamo troppo e cuciniamo troppo. Secondo Waste Watcher, che è l'osservatorio internazionale per lo spreco del cibo, soltanto in Italia il valore dello spreco lungo tutta la filiera ammonta circa 15 miliardi di euro. Ora, se per un attimo mettiamo da parte la fase di coltivazione e ci concentriamo sulla lavorazione, la distribuzione, la ristorazione e il consumo a casa, Eurostat ci dice che in Europa ogni anno buttiamo via 89 milioni di tonnellate di cibo. Così distribuite 35 milioni di tonnellate per la fase della lavorazione industriale. Il 5%, 4 milioni di tonnellate nella fase della distribuzione, della vendita, 12 milioni di tonnellate nella ristorazione e il 42%, 38 milioni di tonnellate all'anno a casa. Ora concentriamoci un attimo su questi 38 milioni di tonnellate all'anno e guardiamoli un po' più da vicino. Sono 76 chili di cibo che ciascuno di noi spreca in media ogni anno. 76 chili. E ogni chilo di questo spreco non è soltanto spreco di cibo, è anche lo spreco di tutte le risorse che sono state utilizzate per produrlo. La FAO stima che il consumo di acqua dolce necessario a produrre lo spreco di cibo su scala mondiale equivale a 250 mila miliardi di litri di acqua, che eguagliano lo scarico idrico annuale del Volga nel Mar Caspio. La FAO stima che il cibo prodotto e sprecato su scala mondiale richiede 1,4 miliardi di ettari di terra, il 30% dell'aria mondiale coltivabile. La FAO stima che le emissioni del cibo prodotto e buttato su scala mondiale sono pari a circa 3,3 miliardi di tonnellate di CO2. Se lo spreco di cibo fosse un paese, sarebbe il terzo in graduatoria per emissioni di CO2 dopo USA e Cina. Che fare? Possiamo cominciare dalle nostre case, questa è una bella notizia, perché nelle nostre case, se consideriamo i 76 chili, da domani, senza aspettare nessuna legge, nessuna regolamentazione, possiamo abbattere lo spreco del 60%, che è il valore evitabile dello spreco. Quindi noi da domani possiamo abbattere lo spreco ogni anno di 50 chili. In Italia e nel mondo ci sono delle persone che stanno facendo cose straordinarie per coinvolgere cittadini, leader politici e scienziati. L'obiettivo è cercare di raggiungere una gestione sostenibile delle risorse del pianeta e dobbiamo smettere di pensare che questo non sia una priorità nella nostra agenda politica. Dobbiamo ricominciare dalle nostre singole azioni e dobbiamo essere cittadini attivi e leader attivi. Questo signore, Dennis Meadows, è un famoso scienziato e professore di gestione dei sistemi, famosissimo per le sue ricerche sulla gestione sostenibile delle risorse del pianeta e fa un esercizio interessantissimo che vorrei fare con voi perché è una bella metafora del messaggio che vorrei lasciare oggi. Allora, per fare questo esercizio vorrei che aveste le mani libere e le braccia libere, quindi vorrei che poggiassi a terra sulle ginocchia tutto quello che non vi serve. Ok. Adesso vorrei che incrociaste le braccia. Vorrei che guardaste in basso e controllaste e ricordaste qual è il polso che avete in alto. Potete allungare le braccia. Incrociate le braccia di nuovo. Vorrei che guardaste in basso e ricordaste qual è il polso che avete in alto. Potete allungare le braccia. Grazie. Allora, chi di voi tutte e due le volte ha messo lo stesso polso in alto? Alzate la mano. Mi è compresa. Ok. Quasi tutti noi. Quindi questo dimostra che ognuno di noi ha un modo ottimale di incrociare le braccia. Circa ci incanaliamo in quel modo. Chi di voi tutte e due le volte ha messo in alto il polso sinistro? Alzi la mano. Io. Chi di voi tutte e due le volte ha messo in alto il polso destro? Alzi la mano. Bene. 50% e 50%. Questo dimostra che possiamo incrociare le braccia in tutti e due i modi. Però ci incanaliamo nel nostro modo ottimale e ci incastriamo, ci incanaliamo in quella abitudine. Ora, Denis Milo si dice, negli ultimi 200 anni circa abbiamo creato un sistema e degli indicatori per misurarne il successo. E tutto è andato avanti. Adesso però il contesto è cambiato e dobbiamo cambiare abitudini. E cominciamo subito. Vorrei che incrociasse le braccia mettendo in basso il polso che avevate in alto. perfetto. È un piccolo esercizio che ci fa notare tre cose molto interessanti che sono vere anche per raggiungere il nostro obiettivo di sviluppo sostenibile. È possibile. Dobbiamo rifletterci. All'inizio sembra non essere una posizione rilassante e lo diventerà. Ma ci vuole coraggio. Ci vuole il coraggio di pianificare nel lungo periodo e di puntare ad una gestione sostenibile delle risorse del pianeta. Perché un pianeta sano nel lungo periodo sarà molto più vantaggioso di un pianeta al collasso nel breve. E poi ci vuole il coraggio di usare la forma di potere più grande che abbiamo, che è l'azione. L'azione è ora, non domani, non tra un mese, non tra un anno. Perché quello che fa la differenza non è decidere di agire, ma agire. E secondo me è la variabile tempo che ci permetterà di costruire un futuro meraviglioso. Grazie a tutti.